È stato molto interessante vedere e sentire parlare Zac Blas, personaggio che io conoscevo già prima di arrivare qui, quindi è sempre bello vedere che sono persone normali e che non sono i divi che uno pensa che siano. La mia ricerca è legata molto al viaggio, legato adesso alle nuove tecnologie, come noi ci prepariamo agli spostamenti e quindi cerchiamo di prevedere un po' già tutto quello che succederà nel nostro viaggio. Non so, guardare già com'è la facciata della casa dove andremo e in questo modo si standardizzano tutte quante le destinazioni, cancellando una parte fondamentale dell'esperienza. Diciamo, la questione più grande è sempre ok, ma io come restituisco ciò che ho ricercato al pubblico? Grazie. 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 Grazie.